Cipolla e pomodoro ripestato In forno a 180 gradi per qualche minuto, 400 minuti è un pesce che fa molto poco e che fa tenuto morbido all'interno e lo condiremo con la salsa di pomodoro che abbiamo usato anche per la pasta con le olive intere e anche una cenere d'oliva con qualche pomodoro con frutto Cipolla Accendo e affetto che si appassiscono un po' di sugo aggiungo un po' di prezzemolo un po' di basilico aggiungo qualche oliva, non troppe perché metterò anche la cenere dopo un po' di pepe, sale Il baccalà l'abbiamo cotto per 4-5 minuti in forno semplicemente con un filo d'olio Sto mettendo la salsa appunto sul fondo del piatto il pezzo di baccalà il filo di oliva viene cotta in forno il pomodoro confì che appunto viene fatto sempre in forno con un filo d'olio, origano, sale e pepe Questa è una sfoglia di pelle di baccalà che viene cotta in forno pure questo ok il piatto è pronto Grazie